Buongiorno ancora una volta a tutti quanti, ben arrivati, io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per la prima parte di questo webinar, parliamo ancora una volta di accountability, lo facciamo nel terzo e ultimo webinar di questo ciclo dedicato al tema della trasparenza, dell'accountability, del governo aperto. Abbiamo avuto modo di parlare nei precedenti webinar, anche oggi avremo modo di farlo, di una serie di temi legati alla trasparenza della pubblica amministrazione, in particolare come possa essere rilanciata attraverso il concetto di accountability, attraverso gli strumenti del governo aperto che in qualche modo fanno tutti riferimento al concetto stesso di accountability. Lo facciamo nell'ambito di una serie di webinar, questo è il terzo di tre, quindi oggi concludiamo questa stagione di webinar sull'accountability. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna che in qualche modo ha promosso questi webinar nell'ambito del progetto pilota che è attivato con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez, stiamo parlando del progetto PENGOV, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, che di prossima conclusione si dovrebbe chiudere a luglio di quest'anno, un progetto finanziato dal PENGOVERNANCE, un progetto ampio che ha avuto varie attività e tra queste abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una serie di amministrazioni pubbliche interessate ad approfondire i temi del governo aperto, quindi di lavorarci a quattro mani con enti anche molto diversi tra loro, amministrazioni centrali, regioni, città metropolitane e con loro abbiamo portato avanti iniziative soprattutto legate al tema della partecipazione pubblica, quindi il rafforzamento delle politiche di Open Government, in alcuni casi è stata la prima occasione per alcuni di questi enti per affacciarsi in maniera un po' più strutturata al tema, in altri casi come quello della Regione Emilia-Romagna è stato particolarmente interessante per noi perché come avete avuto modo di sapere se avete seguito i webinar precedenti la Regione Emilia-Romagna è una tradizione molto solida in fatto di partecipazione pubblica, una legge regionale, un portale dedicato, uno staff e oggi avrete avuto modo di conoscerlo anche dal racconto di Michaela che è dedicato al tema e quindi abbiamo imparato molto, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con loro e imparare molto dalle attività che abbiamo svolto insieme. considerate che abbiamo sviluppato sempre nell'ambito di questo progetto pilota l'attuale piattaforma di riferimento, l'Hub della partecipazione pubblica della Regione Emilia-Romagna che si chiama Partecipazioni, un processo partecipativo che si chiama Trasformazioni ed è stato dedicato a reimmaginare in maniera collaborativa il piano trennale per la formazione per la partecipazione pubblica che fa riferimento sempre alla legge regionale che la Regione Emilia-Romagna ha già avviato dal 2018, vado molto veloce su questo perché l'intervento di Michele che segue il mio è proprio dedicato a questo tema quindi non voglio anticiparle nulla, mentre sempre nell'ambito del progetto pilota lo scorso anno abbiamo svolto un'attività del tutto simile a quella che stiamo svolgendo adesso, ci siamo concentrati sul tema dell'open government e quindi sono stati tre webinar dedicati a approfondire i vari pezzi del governo aperto, i vari pilastri nella perfetta logica di condivisione e di accesso alle informazioni trovate tutto pubblicato a questa pagina di Eventipia un po' come sta avvenendo per questo webinar quindi tutti i materiali, le registrazioni, le slide e i titoli di interventi tutto quello che vi può essere utile per approfondire il tema lo trovate su Eventipia tutto questo lo trovate raccontato in maniera un po' più puntuale, arricchito da link e riferimenti su questa pagina dedicata all'esperienza del progetto pilota della Regione Emilia-Romagna sul nostro portale, nostro intendo funzione pubblica Formez che in qualche modo si occupa della promozione della comunicazione sui temi del governo aperto che si chiama Italia Open.gov, risponde al sito open.gov.it e c'è una scheda dedicata alla Regione Emilia-Romagna ne approfitto anche per dirvi che accanto a questa scheda ci trovate anche altre schede descrittive di tutti gli altri progetti pilota può essere un buon, se siete interessati al tema dell'accountability del governo aperto, della partecipazione pubblica può essere una buona rassegna di esperienze su questi temi anche per regolarsi un po' per vedere come altre amministrazioni hanno declinato il tema del coinvolgimento diretto dei cittadini della progettazione e la valutazione nell'analisi delle politiche pubbliche detto questo parliamo un po' dei webinar mi scuso con chi di voi ha già seguito gli altri due questa prima parte l'abbiamo pensata comune a tutti e tre webinar come introduzione considerate che siete cresciuti credo di 50 utenti per volta dal primo webinar finora quindi abbiamo persone che sono sedite in corso è necessario, ci sembrava utile fare qualche premessa anche a costo di annoiare qualcuno che ha già seguito i primi due webinar considerate che questo ciclo chiaramente sia come qualunque politica pubblica quindi ci siamo posti degli obiettivi in particolare degli obiettivi didattici rispetto ai contenuti che ci tenevamo a far passare con queste chiacchierate e quindi certamente uno degli obiettivi è stato quello di ragionare su i temi legati all'accountability e come dicevamo all'inizio metterli in relazione rispetto alle esperienze che la regione media romagna sta già portando avanti e che vertono proprio su queste tematiche abbiamo avuto modo di vedere delle esperienze veramente molto interessanti quindi ringrazio Michela, tutte le colleghe della regione Emilia Romagna ma anche in particolare Piera Magnatti e Silvia Martini che ci hanno accompagnato con il racconto dei primi due seminari sul primo che si è svolto lunedì 17 aprile abbiamo ragionato insieme sulla tracciabilità del processo decisionale pubblico quindi ci siamo avvicinati un po' al tema dell'accountability guardandolo dalla prospettiva della partecipazione pubblica lo scorso webinar, quello del 26 di aprile abbiamo visto in maniera un po' più diretta cosa avviene una volta che le informazioni pubbliche sono rese disponibili a tutti diciamo delle politiche generative in qualche modo che l'informazione pubblica confezionata in un certo modo quindi abbiamo parlato a lungo di Open Data può avere, può accrescere il valore pubblico può accrescere l'interesse dei cittadini rispetto all'attività della pubblica amministrazione può avere l'ambizione di migliorare il dibattito pubblico il tenore di una democrazia rispetto alle politiche pubbliche e rispetto alla possibilità che tutti i soggetti coinvolti siano ugualmente informati su quello che sta avvenendo oggi invece ci concentriamo un po' di più sulla comunicazione cioè una volta che abbiamo reso disponibile siamo arrivati a definire una serie di strumenti utili a rafforzare le politiche di accountability proviamo a capire come lo strumento in qualche maniera chiude questo cerchio cioè la comunicazione e il trasferimento delle informazioni verso l'esterno può essere esso stesso un momento fondamentale di accountability l'idea, la base, almeno quello che ci piace raccontare il modo in cui lo vediamo è che l'accountability al pari di altre caratteristiche proprie delle politiche pubbliche l'efficienza, l'economicità, la trasparenza e via discorrendo possa essere un pezzo di questa infrastruttura delle politiche pubbliche che alla fine compongono le attività compongono il modo in cui la pubblica amministrazione funziona, lavora, implementa le proprie politiche e porta avanti i propri progetti ci teniamo molto a far passare quest'idea di guardare alle politiche pubbliche attraverso le tematiche del governo aperto avremo modo di farlo insieme considerate che sempre a proposito del progetto pilota che svolgiamo con la regione Emilia Romagna come vi dicevo abbiamo lavorato insieme alla regione per ridefinire la piattaforma partecipazioni la piattaforma lab su cui avvengono le consultazioni pubbliche abbiamo anche avuto modo di lavorare insieme su un processo partecipativo che si chiama trasformazioni che in questo momento è arrivato alla sua fase di accountability cioè quel momento in cui a valle del raggiungimento dell'obiettivo si porta avanti una visibilità rispetto a come questa politica sta andando e quindi abbiamo pensato che potesse essere utile a promuovere anche nell'ambito di questo processo partecipativo questi webinar che dovrebbero aiutare tutti gli interessati anche a comprendere un po' meglio anche perché questa parola poi come dicevamo all'inizio è piuttosto complessa può avere accezioni e declinazioni molto diverse a seconda dell'ambito in cui può essere usato e quindi poteva essere utile approfittare di questa occasione per raccontare un po' meglio di che cosa si tratta di che cosa sta dietro a questo concetto di accountability ne approfitto anche per dirvi che come è successo per il precedente ciclo di webinar abbiamo fatto lo scorso anno con la regione Emilia Romagna anche in questo caso trovate tutte le informazioni le registrazioni dei seminari le slide utilizzate dai docenti su questa pagina di VMTPA è la stessa pagina dove vi siete iscritti considerate che come dicevo all'inizio oggi si chiude questo ciclo di webinar quindi abbiamo modo di attestare le presenze rispetto al fatto che l'abbiate eseguito considerate che nel momento in cui faremo l'attestazione delle presenze sulla piattaforma Eventipia in automatico partirà una mail da questa casella di posta Eventipia.itform.ct dove vi si chiederà se vi va di spendere guardate più di 5 minuti non ci mettete a compilare un lievissimo questionario di gradimento, di feedback che dà modo a noi di capire se questa attività effettivamente ha centrato il punto se ci sono dei margini di miglioramento probabilmente ce ne sono e ci fareste un regalo enorme se ce li fate notare e quindi cerchiamo di migliorare queste attività anche per il futuro questo dovrebbe avvenire tra oggi pomeriggio e domani quindi cerchiamo di farlo il prima possibile detto questo mi auguro che su questa parte non ci siano domande vedo che la chat non c'è nulla quindi possiamo parlare in maniera un po' più diretta prenderci qualche minuto per guardare alla comunicazione pubblica come la comunicazione pubblica possa in qualche modo essere strumento fondamentale dell'accountability tornando alle definizioni che abbiamo già avuto modo di condividere nei precedenti appuntamenti abbiamo definito l'accountability come un rapporto una forma di rapporto tra istituzioni e cittadini da questo punto di vista chiaramente come qualunque rapporto necessita di una fase di dialogo e necessita in un caso specifico di un'attività costante di comunicazione volta soprattutto a mettere tutte le persone coinvolte interessate dalla politica pubblica nelle condizioni di poter comprendere quello che sta succedendo considerate che l'accountability chiaramente si basa su alcuni strumenti utili a farlo funzionare per gli strumenti in questa logica o almeno nel modo in cui ci piace raccontarvelo oggi e nei precedenti due appuntamenti che abbiamo avuto modo di svolgere insieme guardiamo soprattutto gli strumenti del governo aperto quindi alla partecipazione alle metodologie alle tecnologie per coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche alla collaborazione in qualche modo al patto che esiste tra istituzioni e cittadini in forma aggregata rispetto alla possibilità di lavorare a quattro mani sulle politiche pubbliche è chiaramente elemento base diciamo sine qua non per l'accountability la trasparenza gli strumenti tipici del governo aperto sulla trasparenza cioè i dati aperti il monitoraggio delle politiche pubbliche è chiaramente anche una forma di introduzione dei cittadini a una complessità oggettiva che sono il modo in cui la pubblica amministrazione fa funzionare le cose da questo punto di vista la comunicazione è un fattore abilitante cioè non può essere è molto difficile che ci sia un buon accountability senza una sostanziale attività di comunicazione che supporti la divulgazione la diffusione e l'accesso a queste informazioni considerate che ci piacerebbe soprattutto provare a ragionare insieme su capire a chi si rivolge la comunicazione in logica di accountability se c'è una normativa di riferimento e a quale normativa fa riferimento in maniera tale anche da dare un minimo di coordinate rispetto al fatto che qualunque organizzazione pubblica o dipendente pubblico possa fare base su questa normativa per ancora una volta rafforzare le politiche di open gov e di accountability dell'ente in cui lavora e infine guardare quali sono gli strumenti più utili chiaramente una rassegna assolutamente personale è molto vincolata dal tempo a disposizione che era l'oretta della chiacchierata di oggi però cercheremo in estrema sintesi di fare una rapida ricognizione rispetto a quelli che possono essere gli strumenti principali considerate che per l'attività di comunicazione noi in Italia abbiamo una legge dedicata alle attività di informazione e comunicazione delle politiche pubbliche chi di voi fa il comunicatore nelle pubbliche amministrazioni chi di voi lavora in un urp chi di voi ha modo di lavorare rispetto alle informazioni che escono dalle pubbliche amministrazioni certamente conosce bene la legge 150 del 2000 su questo forse abbiamo parlato anche in precedenza c'è un dibattito interessante portato avanti da una serie di soggetti tra cui mi piace citare Pia Social anche perché in qualche modo è in larga parte rappresentata da colleghi del Formez è da un po' di tempo che si prova a ragionare su una nuova legge che in qualche modo renda un po' più attuale tutto quello che è riportato rispettando la logica della 150 provi ad attualizzare un po' più il discorso soprattutto rispetto agli strumenti raccontability considerate che nel 2000 forse non c'era neanche Facebook non lo so parliamo di una regolamentazione dell'attività di comunicazione pubblica basata su strumenti oggettivamente piuttosto superati in questo momento e quindi probabilmente potrebbe essere utile ripensare a questa normativa la logica però resta la stessa c'è una linea di marcazione tracciata tra la legge la legge 150 tra comunicazione interna e comunicazione esterna chiaramente l'accountability si rivolge in larghissima parte sulla comunicazione esterna e quella su cui ci concentreremo di più nell'arco di questa chiacchierata e gli obiettivi della comunicazione esterna riprendendo dalla legge 150 sono più o meno questi chiaramente la comunicazione soprattutto in logica di 150 è molto molto orientata alla promozione degli strumenti la possibilità che i cittadini utilizzino i servizi migliorare l'efficacia e l'efficienza vi discorrendo però la stessa legge 150 in un passaggio ci dice che la comunicazione pubblica in particolare la comunicazione esterna dovrebbe servire a svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making e soprattutto in questa logica che andiamo a guardare alla legge 150 agli strumenti e alla possibilità che le pubbliche amministrazioni utilizzino gli strumenti della comunicazione anche in logica di accountability su questo premessa ragionamento da condividere con voi ditemi cosa ne pensate in questo caso a mio avviso parlare di comunicazione pubblica significa soprattutto parlare di divulgazione pubblica nel senso che quando parliamo di accountability l'abbiamo visto di trasparenza di attività della pubblica amministrazione in realtà la comunicazione dovrebbe soprattutto servire a vincere una complessità vincere un un gergo proprio vincere il una simmetria informativa come viene detto in questi casi rispetto alle attività della pubblica amministrazione che oggettivamente sono molto complesse non tutti hanno il tempo il bagaglio culturale l'attività professionale alle spalle che permette di comprendere di che cosa si tratta e quindi è importante nel momento in cui si parla di comunicazione pubblica in logica di accountability soprattutto non solo pensare a come le informazioni vanno comunicate all'esterno ma anche al modo in cui vengono allestite come le campagne di comunicazione trovino si appoggino anche ad altri strumenti per rendere un po' più semplice la comprensione di quello che sta succedendo da questo punto di vista si parla molto soprattutto parlando in logica di accountability di asimmetria informativa cioè di quelle situazioni in cui non tutti i soggetti sono perfettamente allineati rispetto alla comprensione delle informazioni da questo punto di vista certamente la comunicazione è uno strumento potentissimo per riequilibrare l'esimmetria informativa cioè per rendere anche chi sta all'esterno della pubblica amministrazione nella piena consapevolezza o quantomeno provarci o dare tutti gli strumenti a chi sta all'esterno di comprendere quello che sta succedendo non è semplice non è non è facilissimo non è immediato non è non è alla portata di tutti nel senso che è un'attività molto propria vedremo che ci sono degli strumenti però può essere certamente un obiettivo che le pubbliche amministrazioni si possono dare rispetto all'evoluzione della trasparenza vedremo che anche la normativa va in questo senso Francesca in chat dice che è completamente d'accordo grazie mille infatti lei parla di facilitazione dell'informazione pubblica che in qualche maniera rilancia fa il paio col termine di divulgazione e su questo credo che i comunicatori pubblici certamente avrebbero molte molte cose da dire se ce n'è qualcuno tra di voi vi prego di farvi sentire vi faccio un esempio rapido per provare a capire di che cosa si parla e vi ripeto lo dico in premessa non lo faccio per piageria nei confronti della regione media romagna però vedete questa è la sezione amministrazione trasparente della presidenza del consiglio dei ministri questa è la pagina brevissimo inciso decreto 33 trasparenza chiede a tutti gli enti pubblici di allestire una pagina sul proprio sito istituzionale in maniera uniforme riportando tutte queste informazioni che vedete nella colonna di destra sì trovate questa pagina uguale su tutti i siti di tutte le pubbliche amministrazioni è conforme ci sono anche degli standard però vedete questa pagina questa pagina di amministrazione trasparente sul sito della presidenza del consiglio dei ministri diciamo non invita alla lettura è un po' quello che una volta si chiamava il murro di testo cioè non è che sia particolarmente comunicativa certamente adempie perfettamente l'obbligo di legge però si può fare un passo ulteriore si può passare dalla comunicazione alla facilitazione come diceva Francesco alla divulgazione da questo punto di vista a mio avviso la regione Emilia Romagna declina in maniera molto intelligente molto elegante molto interessante questa stessa pagina vedete una specie di infografica dove vengono riportate tutte le informazioni riguardanti la sezione amministrazione trasparente quindi adempie perfettamente l'obbligo di legge però fa un passo ulteriore la rende interessante la rende più bella la rende più più facile da comprendere e come sappiamo diciamo nell'economia dell'attenzione la bellezza o quantomeno l'attrattività o il fatto che una pagina web sia allestita con un minimo di criterio anche da un punto di vista estetico aiuta gli stessi utenti ad interessarsi di più a quel tema da questo punto di vista secondo me davvero questo potrebbe essere un ottimo modello per evolvere quella pagina già un po' fredda verso uno stile di comunicazione certamente molto molto più interessante da questo e ripeto non è un esempio che faccio perché siamo nel nel ciclo di webinar sulla regione Emilia Romagna perché ci sono presenti le colleghe della regione Emilia Romagna ma davvero mi sembra un ottimo punto di partenza da questo punto di vista il mio avviso è lo stesso decreto 33 che diciamo non cita in maniera esplicita perché sarebbe oggettivamente molto difficile da regolamentare però va in questa direzione il decreto 33 non solo dice alle pubbliche amministrazioni di esporre le informazioni per quello che riguarda la trasparenza ma in qualche maniera chiede di fare un passo avanti chiede di rendere cercare di coinvolgere i cittadini sulla base di quelle informazioni rendendole un po' più interessanti un po' più attrattive da questo punto di vista una delle novità più interessanti introdotte dal 33 declinate in maniera veramente molto intelligente da moltissimi enti pubblici sono le giornate della trasparenza cioè nel 33 c'è scritto che una volta l'anno gli enti pubblici devono in logica di divulgazione di facilitazione di accesso alle informazioni da parte dei cittadini organizzare degli eventi che raccontino il tema della trasparenza dell'anticorruzione dell'accountability del governo aperto ci sono le iniziative veramente molto molto interessanti tra le più recenti dell'anno scorso ho preso questa vi confesso l'ho presa soltanto perché aveva un design della locandina molto molto carino è quella della regione Puglia che si è svolta alle fiere del Levante e da questo punto di vista è interessante anche vedere come queste giornate stiamo diventando anche momenti di promozione del PIAO che è il strumento che abbiamo parlato nelle puntate precedenti di questo webinar che sta diventando un po' la pietra angolare su cui le pubbliche amministrazioni stanno orientando tutte le attività di trasparenza anticorruzione accountability e anche in alcuni casi di governo aperto però vedete questo è un tentativo del legislatore di dire guardate non limitatevi in logica di riempimento a esporre delle informazioni ma create anche delle occasioni che le rendono interessanti agli occhi di chi oggettivamente ha poco tempo poco interesse e poca voglia di andare ad approfondire il passo ulteriore da questo punto di vista certamente è quello e abbiamo avuto modo di raccontarlo anche attraverso le esperienze della regione Emilia Romagna e di iniziare a raccontare come stanno andando come le pubbliche amministrazioni svolgono il proprio lavoro da questo punto di vista l'elemento più oggettivo è il cosiddetto ciclo della performance ne parlavamo nel primo intervento della regione Emilia Romagna in qualche maniera lì si faceva riferimento alle modalità con cui la regione trasferisce queste informazioni verso l'esterno chiaramente da questo punto di vista c'è anche un'iniziativa di livello nazionale portata avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica che è il portale della performance dove tutte le pubbliche amministrazioni dei renti tra cui la regione Emilia Romagna trasferiscono le informazioni sui cicli delle performance e danno modo a tutti a tutti i cittadini di andare a sapere come le pubbliche amministrazioni stanno portando avanti le proprie iniziative rispetto agli obiettivi che si sono dati è un grande sforzo di trasparenza è un grande sforzo appunto di account abiti come vedete citato nella session page di questo portale l'account abiti è un po' la ragione per cui il Dipartimento della Funzione Pubblica e tutte le pubbliche amministrazioni perché chiaramente è uno sforzo corale da questo punto di vista si organizzano per rendere queste informazioni quanto più semplici effluibili verso l'esterno certamente ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti in particolare nel primo di questi webinar la partecipazione pubblica è un po' lo step successivo cioè io informo metto tutti i soggetti esterni della pubblica amministrazione nelle condizioni di conoscere quello che sta succedendo il passo successivo è coinvolgerli direttamente vi faccio un esempio tra le varie consultazioni brevissimo inciso prima parlavamo del progetto OpenGov progetto quadro dentro cui si svolgono una serie di attività tra cui il progetto Piriota con la Regione Emilia-Romagna allo stesso modo sullo stesso progetto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del Formez svolge l'attività di presidio della piattaforma Partecipa che è il Lab Nazionale della Partecipazione Pubblica per le pubbliche amministrazioni centrali abbiamo ospitato varie consultazioni pubbliche l'ospitato intendo coprogettato è svolto a quattro mani con vari enti di livello nazionale ce ne sono alcune che sono andate veramente molto molto bene questa vi confesso è stata una delle mie preferite sia per i contenuti che per le modalità con cui si è svolta l'abbiamo portata avanti insieme al Ministro per le disabilità che in un certo momento esattamente un anno e mezzo fa più o meno si è trovato nelle condizioni di declinare rispetto al territorio nazionale la strategia per i diritti delle persone con disabilità per gli anni 21-30 è un'iniziativa europea promossa dall'Unione Europea il 3 marzo 2021 e di incrociare questo tema con un tema ancora più complesso che in quel momento era in fase di progettazione cioè quello del PNRR che come sapete taglia in maniera trasversale moltissime delle attività della pubblica amministrazione insomma era un momento di progettazione di una politica pubblica particolarmente compresso i colleghi dell'ufficio con persone con disabilità hanno deciso di coinvolgere direttamente la platea di soggetti a cui questa normativa si rivolge a cui questa pianificazione queste politiche pubbliche si rivolgono e l'hanno fatto attraverso una consultazione pubblica che si è svolta sulla piattaforma Partecipa considerate che qui chiaramente su Partecipa e su questa pagina che vedete linkata in basso ci trovate tutte le informazioni però la cosa che mi piace sottolineare è che da questo punto di vista la partecipazione è stata veramente molto molto alta considerate che nella consultazione pubblica si chiedeva a chiunque volesse partecipare di esprimere le proprie idee i propri contenuti le proprie stanze i propri punti di vista su queste tematiche principali cioè accessibilità inclusione vita indipendente e via discorrendo e in totale sono arrivate 302 proposte sono tante cioè sono veramente tante considerate 302 persone che decidono di contribuire a una politica pubblica la ragione per cui tra l'altro aspetto interessante mi piace sempre molto sottolineare di questa consultazione pubblica di moltissime altre consultazioni pubbliche che si svolgono su Partecipa vedete questo è il momento in cui sono arrivati questi 302 commenti la stragrande maggioranza di questi sono arrivati tendenzialmente nel fine settimana questo per dire che sono persone talmente coinvolte nel tema che decidono di sottrarre il proprio tempo libero quello retto quella mezz'ora che serve per buttare giù un contenuto e comunicarlo e partecipare attraverso il percorso partecipativo non so io davvero come pubblica amministrazione mi sento veramente sempre molto lusingato quando qualcuno per senso civico dall'esterno contribuisce in maniera così sostanziale all'attività delle pubbliche amministrazioni è così come vedete quella in basso è una cosiddetta heat map è una mappa di calore che mostra il momento in cui sono arrivate la maggior parte delle proposte e anche qui mi piace sempre sottolineare l'insonnia delle persone che partecipano a queste cose c'è roba che è arrivata alle 4 del mattino alle 11 di sera però anche qui è veramente molto interessante vedere come alcune persone decidono di dedicarsi a questa cosa lo trovo veramente molto prezioso la ragione per cui a mio avviso anche parlando lungo con i colleghi del ministero dell'ufficio con persone per disabilità e soprattutto perché loro nel tempo loro come ufficio hanno costruito intorno a queste politiche una community fatta di associazioni di singole persone di altri enti pubblici che sono direttamente coinvolte dal tema enorme stratificato e complesso della disabilità e in qualche modo hanno promosso in maniera molto puntuale secondo l'Englist parlando direttamente coinvolgendoli in maniera chiamandoli direttamente rispetto a questa attività di progettazione collettiva di una politica pubblica nel senso in qualche modo è come se loro avessero già un bagaglio una community di riferimento precedente alla partenza di questa consultazione pubblica e la consultazione è stato il momento per mettere al sistema tutte queste energie altra cosa che ha caratterizzato moltissimo secondo me molto intelligente il modo in cui abbiamo fatto funzionare la comunicazione legata a questa iniziativa di coinvolgimento diretto dei cittadini rispetto al design di questa politica pubblica è che ogni settimana scaricavamo i dati su come stava andando la consultazione pubblica e questi dati in forma aggregata e piccoli report intermedi venivano comunicati a tutta la loro media inglese a tutte le persone che avevano coinvolto quindi di volta in volta tutti potevano essere aggiornati su come stava andando è diventato un ottimo gancio per convincere altre persone a partecipare si è creato una specie di tam tam di sforzo collettivo ed è stato secondo me veramente un ottimo modo di far funzionare questa consultazione e vi dico è stata una delle consultazioni dal mio punto di vista di maggiore successo che si è svolta su Partecipa ci saranno certamente molte altre di qui in avanti però se ci pensate è un discorso molto simile a quello che avviene con molte amministrazioni impegnate nel portare avanti molte autorità di gestione molti enti che portano avanti politiche collocate sui fondi strutturali che come sapete dall'accordo di perternariato prevede appunto un'individuazione di un perternariato che in qualche maniera faccia da sponda rispetto alle decisioni che le pubbliche amministrazioni prendono sulle politiche europee e da questo punto di vista ci sono tante amministrazioni che hanno costruito dei solidi perternariati si prendono cura di questi soggetti e sono un'ottima sponda per poi arrivare a una progettazione molto più puntuale delle politiche pubbliche qualcosa di ugualmente simile anche se un po' diverso per il taglio avviene con delle esperienze a mio avviso molto preziose che si svolgono nei contesti locali in Italia sono le cosiddette rete civiche una rete civica molto interessante che va avanti non da tantissimo ma che stanno facendo delle cose certamente interessanti da questo punto di vista è la rete civica di le rete civiche urbane della città di Bari e sempre a proposito di Emilia Romagna in particolare del capoluogo di regione di Bologna c'è una rete civica storica che è la rete civica iperbole che lavora ancora una volta a quattro mani insieme al comune proprio in logica di community su questo poi non so se le colleghe che non so se vivete sicuramente lavorate a Bologna però non so se vivete anche nella stessa città avete avuto modo di non so professionalmente o personalmente averci avuto a che fare su questo chiedo a Michela se voglia nel suo intervento di dirci qualcosa la rete civica è un'ottima modalità di collaborazione che più o meno richiama a molte delle cose che abbiamo detto finora quindi da questo punto di vista è certamente uno strumento utile alle amministrazioni pubbliche che va assolutamente coerente con la logica di coinvolgimento di accountability e di governo aperto di cui parliamo durante questi webinar detto questo guardo il volo se ci sono domande o no passiamo un altro argomento che si lega al concetto di accountability di trasparenza di comunicazione dell'attività della pubblica amministrazione su un ambito particolarmente dedicato e particolarmente compresso cioè parliamo di racconto molto rapidamente di che cosa si tratta nel momento in cui parliamo dei registri dei portatori di interesse non so se avete avuto modo di vedere questo splendido film di più di qualche anno fa di Jason Reitman è un film che si chiama Thank you for a smoking e parla di lobby in particolare parla di lobby dal punto di vista dei lobbyisti è una commedia veramente molto godibile e vi dà un'idea molto precisa di che cosa faccia molto leggera molto divertente da vedere di che cosa fa un lobbista cioè quelle persone che sono incaricate di rappresentare interessi particolari nelle attività governative è un tema molto complesso è un tema su cui chi se ne occupa direttamente dice che la normativa italiana è ancora un po' carente da questo punto di vista la definizione che abbiamo di gruppo di pressione ce lo dice Wikipedia localizzata in lingua italiana ma in larga parte possiamo continuare a parlare di lobby parliamo di gruppi organizzati che vogliono influenzare appunto fare pressione sulle istituzioni affinché le decisioni delle istituzioni privilegino alcuni punti di vista alcuni interessi rispetto ad altri in alcuni casi anzi questo forse probabilmente è anche un limite del modo italiano di guardare al tema della lobby cioè tendenzialmente un'accezione negativa però non è detto nel senso è il naturale è abbastanza coerente che ci siano pressioni dall'esterno vi ricordate abbiamo parlato a lungo nelle puntate precedenti di government as a platform cioè di governo come luogo di convergenza degli interessi di tutta una serie di soggetti e quindi di capacità della pubblica amministrazione di regolamentare di discernere di coinvolgere e quindi di assumere decisioni che meglio rappresentino l'interesse collettivo più di altri generi in un valore pubblico chiaramente tra questi soggetti ci sono anche i lobbies e ci sono anche gli interessi privati quindi da questo punto di vista come fare a disinnescare ipotetici problemi di pressione da parte dei singoli gruppi di interesse sulle istituzioni il tema è quello appunto del registro dei portatori di interessi è una normativa che non riguarda al momento tutte le pubbliche amministrazioni ma ce ne sono alcune che sono state più portate ad adottare un registro dei portatori di interessi rispetto ad altre chiaramente il caso un po' più sensibile da questo motivo è proprio per collocazione istituzionale rispetto all'attività che svolge il ministero delle imprese del Made in Italy che questo splendido palazzo qui su via Veneto in Roma è per forza di cose ha a che fare con tutta una serie di soggetti che sono in larga parte soggetti privati e quindi da un po' di tempo da più di qualche anno il ministero dello sviluppo economico ha deciso di dotarsi di un registro dei portatori di interessi di che cosa si tratta è semplicemente una pagina un portale dedicato in cui vengono riportati in maniera puntuale tutti gli incontri che il ministro quantomeno i rappresentanti politici istituzionali del ministero hanno con altri soggetti in maniera tale che possa essere tracciata il momento in cui soggetti esterni alla pubblica amministrazione incontrano soggetti istituzionali e in qualche modo avvenga un dialogo chiaramente è utile è indispensabile che questa cosa avvenga però allo stesso tempo è utile ed è altrettanto indispensabile che venga in piena trasparenza e in piena accountability considerate che voi in particolare prendo il caso dell'esempio prendo l'esempio del MISE perché è quello fatto meglio insomma quello che c'è da più tempo però potete trovare su questa pagina tutti gli incontri che si svolgono le statistiche rispetto a come sono sviluppati potete scaricare i dati in formato aperto potete metterci mano potete guardare tutto quello che avviene la cosa interessante e qui torniamo un po' più alla comunicazione in logica di accountability che nel caso del Ministero dello Sviluppo Economico non si limita ad aggiornare questa pagina ma nella stragrande maggioranza dei casi soprattutto per le cose un po' più grosse comunica il momento in cui avvengono ne dà visibilità sul proprio sito nella sezione news questo è un incontro tra l'attuale ministro e il CEO delle imprese indiane non so benissimo su quali attività però vedete ne viene riportata viene dato visibilità sulla pagina del sito del Ministero e certamente la stessa notizia viene ripresa anche sui canali social in particolare sul canale Twitter potete vedere come questa news venga rilanciata e venga ripresa quindi non solo si dà rispetto al registro dei portatori di interesse un'informazione puntuale strutturata nel portale ma si amplifica si dà risonanza a queste informazioni anche attraverso la comunicazione pubblica la stessa cosa avviene in larga parte cioè un registro dei portatori di interesse chiaramente se ne è dotata anche la Camera dei Deputati in particolare anche qui potete trovare questi dataset molto preziosi anche da un punto di vista tecnico perché in larga parte sono in formato link ed open data sui dati della Camera e il Ministero dell'Agricoltura ha un registro dei portatori di interesse vedete si chiama anche in maniera diversa però di fatto sostanzialmente la stessa cosa la Regione Lombardia ha un elenco dei rappresentanti di interesse però la logica è sempre la stessa una serie di soggetti che sono interessati a parlare con le istituzioni pubbliche si registrano e ogni incontro viene tracciato attraverso questi sistemi è un ottimo modo per avere trasparenza e visibilità su come vengono riprese le informazioni pubbliche se vi va di approfondire il tema delle lobby più in generale in particolare il tema della rappresentanza e interessi alle istituzioni vi do come riferimento a The Good Lobby che è un'associazione italiana che presidia queste tematiche che è direttamente coinvolta nel forum multi-stakeholder dell'attuale quinto piano d'azione per l'open government abbiamo parlato nel primo webinar e loro fanno delle campagne molto puntuali su tematiche molto simili molto azionanti su quelle di cui stiamo parlando davvero ci potete trovare gli approfondimenti molto ben scritti molto ben fatti vedete anche il sito da un punto di vista grafico è molto interessante molto bello molto interessante da navigare veniamo un po' di più da vicino agli strumenti della comunicazione pubblica cioè quegli strumenti di cui una pubblica amministrazione si può dotare per rafforzare l'accountability rispetto alla trasparenza rispetto all'attività che porta avanti oggettivamente anche sugli esempi che abbiamo appena visto a proposito del MISE i social network da questo punto di vista funzionano decisamente bene non fosse altro che la maggior parte dei cittadini in questo momento è lì e quindi proporre un flusso informativo strutturato dentro le piattaforme social certamente è un ottimo modo per far rimbalzare questi news per dare visibilità considerate anche che tendenzialmente queste piattaforme hanno un'ottima indicizzazione quindi sono veramente un ottimo modo per amplificare la comunicazione pubblica in logica di accountability ci sono molte amministrazioni che fra l'altro utilizzano i social network anche come strumento vero e proprio di accountability mi viene in mente l'account non so chi di quanti di voi vivono qui a Roma però l'account ATAC cioè quello del trasporto pubblico fa uno straordinario lavoro di accompagnamento del rispetto all'attività del trasporto pubblico e di promozione dell'accountability dell'azienda della municipalizzata per il trasporto pubblico di Roma però ci sono un'infinità di enti pubblici che utilizzano le piattaforme social anche in questo scopo aspetto interessante ve lo dico ve lo accenno soltanto perché penso che sia un esperimento della più recente gestione di Twitter mi ha colpito perché lo stavo guardando l'altra sera e pensavo potesse essere utile usarlo da spunto per ragionare insieme su questa cosa da un po' di tempo le stesse piattaforme sapete si parla a lungo da anni da quando esistono i social media di fake news e della possibilità che oltre ad amplificare informazioni certificate come quelle della pubblica amministrazione i social network siano anche cassa di risonanza per le cosiddette notizie false per le notizie false tendenziosi da un po' di tempo in logica di accountability redazionale delle piattaforme mi è sembrato che Twitter stia implementando questa funzione qui vedete l'esempio diciamo è il più buffo che ho trovato in questo video si vede Bruce Lee famoso attore di Kung Fu degli anni 70 che gioca a ping pong con altri due tizi usando il non chacom cioè avete presente quella roba tipo le tartarughe ninja quelle cose tipiche del Kung Fu il video è registrato è fatto molto bene è anche estremamente divertente da vedere ed è evidentemente falso nel senso che a prima vista può sembrare vero può sembrare ben fatto però una serie di utenti possono attraverso una funzionalità che sinceramente io sul mio account non ho ancora implementato però magari è in roll out in fase di approfondimento si può consentire dopo un tot di richieste di chiedere la verifica in questo caso della verifica di questo video per assicurarsi che sia vero ed effettivamente in questo caso è un video falso è un video montato con degli effetti sonori e vedete questo è un tema di cui si parla molto soprattutto nell'ultimo periodo a proposito di intelligenze artificiali e di possibilità di modificare in maniera molto molto semplice le immagini un po' di tempo fa hanno fatto il giro del web come si dice in questi casi le foto ritoccate di Papa Francesco col Montgomery Bianco che andeva in giro per Roma piuttosto che le foto del finto arresto di Donald Trump a due giorni prima del reale arresto dell'inquisizione dell'ex presidente degli Stati Uniti e vedete da questo punto di vista le piattaforme si organizzano per cercare di rafforzare l'accountability delle informazioni che danno e io penso possa essere un ottimo spunto per la pubblica amministrazione l'accountability delle pubbliche amministrazioni può anche dovrebbe anche passare da una sorta di crowdsourcing da una sorta di intelligenza della folla che si assicura rispetto a come le attività delle pubbliche amministrazioni vengono comunicate e vengono portate avanti può essere un ottimo spunto anche da un punto di vista tecnico per capire come funziona per rafforzare l'accountability delle pubbliche amministrazioni altro strumento che avete visto certamente su moltissimi degli esempi di cui vi ho parlato a proposito di accountability sono le cosiddette infografiche cioè che significa significa di tradurre le informazioni in forma grafica affinché siano più efficaci e più comprensibili questa è un'immagine storica insomma gira molto su quando si parla di queste cose se voi prendete il barattolo di Nutella lo rigirate e ci andate a vedere gli ingredienti la vostra percezione la nostra percezione di quei numeri di quelle percentuali di cui ci colpisce fino a un certo punto se invece andiamo a guardare attraverso l'aiuto della grafica di cosa è composto effettivamente un barattolo di Nutella vedete diventa interessante scoprire che la maggior parte è zucchero poi c'è un po' di cacao c'è un po' di qualche altro ingrediente però di fatto la Nutella è questa roba qui poi mescolata la mangiamo e non ce ne accorgiamo così come infatti esatto c'è Marco che dice oddio è la tipica reazione di chi guarda non so se vi sia mai capitata è un'immagine che gira parecchio ed è un capite rispetto tutti abbiamo guardato in larga parte guardato cosa c'è dentro un barattolo di Nutella però leggendo quelle informazioni in quel modo non hai la reazione non è che appena avuto Marco in chat che dice oddio che cosa sto mangiando che cosa c'è qui dentro l'infografica serve moltissimo a suscitare questo genere di reazione cioè avere un'informazione immediata diretta che può far comprendere un po' meglio di che cosa si tratta avete visto infografiche più o meno in tutte le moltissime delle iniziative che abbiamo avuto modo di vedere nel corso parlando di accountability e di pubblica amministrazione non volevo suscitare le lacrime di nessuno guardo le reazioni in via chat però di fatto la realtà è questa però ci sono tantissimi esempi di accountability cioè di possibilità di raccontare bene le informazioni anche all'esterno anche qui caso che io cito spessissimo e mi fa piacere farlo proprio nell'ambito di questi webinar sul progetto pilota della regione Emilia Romagna open ricostruzione certamente chi di voi viene da quei territori se li ricorderà bene nel 2012 se non ricordo male il sisma colpisce il territorio emiliano romagnolo c'è una fase di ricostruzione la ricostruzione come sapete è una fase molto delicata perché bisogna prendere tante scelte ci sono tanti soldi per rimettere a posto le cose nel più breve tempo possibile e la storia ci insegna che in situazioni simili da altre parti sono successi più di qualche diciamo momenti d'ombra in cui la mala amministrazione da un lato ma anche la criminalità organizzata ha inciso proprio forte di questo caos di questa necessità di fare le cose molto rapidamente molto interessante rispetto a questo tema il modo in cui la regione Emilia Romagna ha declinato il tema del dare visibilità al modo in cui si spendono i soldi per la ricostruzione il segretario responsabile per i fondi per la ricostruzione dell'Emilia Romagna ha deciso di portare avanti questo portale fatto benissimo è un portale in cui vengono trasferiti chiedo con cadenza trimestrale innanzitutto tutti i numeri su quella che è la ricostruzione quanto è speso dove sono allocati i fondi come stanno funzionando come si distribuiscono i fondi tra donazioni e fondi pubblici da dove arrivano questi soldi è tutto perfettamente tracciabile è tutto fatto molto bene e in più come se non bastasse è molto bello da vedere cioè nel senso chiunque andando a guardare una pagina simile riesce ad avere un sostanziale contributo informativo su come sta andando considerate che ancora una volta come dicevamo prima il tema dell'infografica come momento di trasferimento dell'informazione immediata è un grandissimo strumento di accountability delle pubbliche amministrazioni quindi da questo punto di vista questo sito vi dà una prospettiva comune per comune per capire come è andato quanto è stato speso come viene speso come viene donato e via discorrendo davvero un ottimo esempio di accountability che in qualche maniera fa il paio con Open Coesione il portale che abbiamo visto la volta precedente che racconta con le stesse modalità cioè basandosi moltissimo sulle infografiche il modo in cui vengono spesi i soldi dei fondi SIE da questo punto di vista vi rubo tre minuti per raccontarvi un aneddoto sul tente personale io sono originario di Ostuni in Puglia vivo in Roma da un po' di anni come ogni buon fuorisede l'estate torno a casa e mi è capitato più di qualche anno fa di sfogliare il quotidiano locale che nel nostro chichi credo che ci sia qualcuno delle mie parti è il quotidiano di Brindisi piuttosto che la Gazzetta del Mezzogiorno e mi è capitato di leggere un articolo scritto da un cronista di Cronaca Locale che faceva un'analisi chiaramente molto politica rispetto a come le varie giunte nel corso del tempo avessero operato rispetto ai fondi pubblici e in larga parte l'articolo era costruito a partire dai dati e dalle infografiche di Open Coesione tutto questo per dirvi che un portale di questo tipo iniziative di questo tipo certamente sono utili ai cittadini ma sono ancora più utili ai giornalisti che in qualche maniera fanno da cassa di risonanza rispetto alla trasparenza della pubblica amministrazione questo davvero è secondo me centrale rispetto alla comunicazione alla facilitazione alla divulgazione di cui si parlava in premessa cioè un ottimo modo per portare a conoscenza l'informazione pubblica è pensare anche a destinatari di questo tipo di comunicazione e al modo in cui verrà rilanciata anche in situazioni simili a quelle che vi ho appena raccontato è davvero un punto centrale a mio avviso del modo in cui la comunicazione pubblica lo dico anche in logica di revisione della legge 150 possa trovare nuova linfa da strumenti di questo tipo su questo chiudo perché mi restano pochi minuti il tema dell'infografica cioè del racconto grafico dell'informazione pubblica non è assolutamente nuovo viene fatto da anni considerate che questa è un'infografica pubblicata sulla Pravda nell'Unione Sovietica del 1931 quindi siamo piena Unione Sovietica sotto Stalin e certamente possiamo immaginare che le informazioni riportate da queste grafiche non siano perfettamente veritiere così a naso però vedete è uno strumento che viene utilizzato da tantissimo tempo è uno strumento di cui la comunicazione non solo pubblica si può datare per spiegare meglio quello che sta succedendo la differenza sostanziale a mio avviso in questo momento è che se fino a un po' di tempo fa era complicato proprio da un punto di vista tecnico allestire delle grafiche che raccontassero queste informazioni oggi invece è estremamente facile ci sono dei tool e qui vi do una piccola rassegna che fanno proprio questo mestiere sono facilissimi da usare cioè se sapete usare Excel non avete nessun problema utilizzare questi stessi sistemi funzionano tutti in maniera molto molto simile si imputano i dati attraverso una tabella dati chiaramente precedentemente lavorati su software più congeniali a questo scopo tipo Excel piuttosto che cose più volute Python e via questi sistemi tendenzialmente anche gratuiti o quantomeno con un prezzo di ingresso freemium o con abbonamenti che costano veramente molto poco danno la possibilità di generare grafiche di livello veramente molto avanzato che possono essere embeddate sulle pagine di siti web della pubblica amministrazione un po' come si fa l'embed dei video di YouTube per chiarirci e diventano un ottimo strumento di trasparenza e contabiti e sono molto molto semplici Infogram è quello che cito diciamo è quello per l'entry lever per il livello di base secondo me il più comodo di tutti perché parte da grafici con tabelle preimpostate quindi è molto facile capire come mettere mano ai grafici una volta pubblicate sono molto molto semplici da embeddare sui siti è possibile anche fare cose più evolute metterci degli elementi grafici è fatto veramente molto molto bene guardate un paio d'ore a giocarci con una volta fatto accesso con un account e capite perfettamente come funziona e diventa un ulteriore strumento a disposizione della pubblica amministrazione per raccontare cose di questo tipo che tendenzialmente sono spesso nel larghissima parte ancorate legate ai numeri quanto è stato speso quanto tempo c'è stato messo i cicli della performance come si svolgono quanti obiettivi sono stati raggiunti e le grafiche sono un ottimo strumento per raccontare queste cose in maniera molto 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 facile grazie Angela per aver postato il link in chat qui ci trovate insomma potete fare un login e create un account in tre minuti altro strumento che a me piace particolarmente è Data Wrapper è molto forte sulle mappe Data Wrapper a differenza di cioè Infogram ha la funzione mappe però Data Wrapper credo che abbia le mappe quelle dell'Istat e dell'Igm aggiornate con i confini dei singoli comuni e l'ultima volta che l'ho usato era molto puntuale su questo e potrebbe essere un ottimo strumento per chiunque di voi volesse fare delle infografiche simili a quelle che abbiamo messo guardate ci mettete veramente due minuti una volta che avete i dati caricarle su questi sistemi e poi embeddare sui vostri siti veramente ci vuole un attimo e altro sistema un po' più evoluto però si possono fare delle cose molto interessanti è quello che usa un sito fatto bene da questo punto di vista che è il data blog del sole 24 ore anche lì grande tradizione sul racconto dei numeri sul racconto economico a partire dai numeri il data blog coordinato da Luca Tremolada che è un giornalista del sole 24 ore che da anni fanno veramente un lavoro straordinario quasi quotidianamente pubblicano un'infografica che racconta fenomeni non solo economici italiani utilizza molto tablore utilizza in maniera molto raffinata e diventa un ottimo punto di partenza per capire come funziona considerate tutte queste cose come dicevamo prima come dicevamo prima ve le racconto proprio perché l'idea è quella di partire dalle informazioni che in qualche modo le pubbliche amministrazioni devono esporre dal decreto d'entrata e da altre normative che chiedono alle pubbliche amministrazioni di essere trasparenti rispetto alle attività che fanno e alle politiche che portano avanti e il modo in cui ancora una volta la comunicazione pubblica legata all'accountability possa essere una cassa di risonanza della trasparenza amministrativa quindi non adempiere cioè non limitarsi ad adempiere allo scopo di esporre queste informazioni come chiedere la normativa ma provare a fare uno sforzo di immaginazione uno sforzo di creazione di valore pubblico riprendendo queste informazioni e cercando di raccontarle nella maniera più congeniale in maniera che la renda più interessanti più fruibili da tutti i cittadini all'esterno credo di avervi raccontato proprio tutto con nella migliore tradizione queste slide le trovate sul di qui a un po' sulla pagina di Eventi Pia dove vi siete iscritti chiedo se non mi sembra che ci siano domande su questa parte quindi passo direttamente la parola a Micaela a cui chiedo di attivare la sua webcam e il suo microfono Michela puoi far partire le tue slide dalla condivisione schermo come abbiamo fatto prima grazie a tutti davvero grazie a tutti voi per la partecipazione io sto qua insomma vi faccio compagnia chiaramente fino alla fine di questo webinar vedo che Michela ha aperto il suo microfono esattamente vediamo se adesso mi fa aprire anche la telecamera vediamo no non ti vediamo ancora infatti mi dice è impossibile avere la videocamera seleziona un'altra videocamera in impostazioni oh mamma mia come mai non ne ho idea rispone ritorno possiamo provare a fare così dai prova a chiudere ti aspettiamo qui io chiacchierò per qualche altro i minuti necessari mi auguro davvero approfitto di questi minuti per rilanciare come dicevo all'inizio mi auguro che questi webinar abbiano funzionato mi auguro che il tema sia interessante siete stati tanti ringrazio tutti voi per il ringraziamento in chat continuate a seguirci mi viene da irvi non lo so l'idea è che certamente porteremo avanti iniziative di questo tipo considerate che se siete interessati a queste tematiche sulla pagina che adesso vi vado a recuperare da qualche parte di OpenGov trovate tutte iniziative di formazione strutturata che stiamo portando avanti sempre come progetto OpenGov metodi e strumenti per l'amministrazione aperta non so se qualcuno di voi si è già iscritto o avete avuto modo di venire a conoscenza di questa attività sono dei corsi online utilizzando la modalità dei MOOC all'americana cioè i corsi online massivi che stanno avendo un discreto successo stanno andando molto bene da questo punto di vista ringraziamo già tutti fatti perfetto grande Giovanni che dice anch'io grazie Francesco la testimonianza in chat diretta è che ci sono molte come è possibile iscriversi guarda Marco dammi solo un istante che adesso che passo la parola a Michela mi vado a pescare la pagina giusta su OpenGov e ve la metto in chat così se vi va vi iscrivete esattamente allo stesso modo così come vi siete iscritti a questo corso cioè avendo già un account su EventiPA basta che cliccate ce ne sono in partenza due o tre credo su temi molto simili tra l'altro uno ha proprio dedicato al tema dell'accountability Michela io credo che tu abbia aperto il tuo microfono ma non ti vedo ancora esattamente e allora possiamo provare proprio al volo a fare questa roba qui vediamo se allora se vai in basso a sinistra ci trovi attiva audio attiva o disattiva video su c'è una una freccettina che va verso l'alto se ci clicchi ti dice ti chiede a quale impostazioni video ti chiede quale videocamera agganciare è curioso perché durante prima che iniziasse questo webinar ci siamo sentiti e visti non so se sei sullo stesso pc sono sullo stesso pc non è cambiato niente sto facendo esattamente quello che mi stai suggerendo non non so che cosa vediamo un po' e non produce effetti e guarda forse possiamo accontentarci la tua voce arrivata a questo punto perché io non so cos'altro come fare per risolvere sulle impostazioni video sempre da quella freccettina se le apri poi ti chiede videocamera e selezioni la videocamera del pc ne ho una sola di videocamere ascolta non è che per caso hai spinto il pulsantino vicino alla webcam proprio sull'alto sopra al monitor diciamo i pc di solito hanno un piccolo tasto sono su portatile sì esatto la videocamera proprio del del portatile in alto ci dovrebbe essere un bottoncino vicino spesso c'è allora io altrimenti vi propongo una cosa alternativa se non risolviamo ci dovrebbero essere le mie colleghe potrebbero nel caso proiettare loro ma le slide le puoi proiettare penso ugualmente se vai su condivisione schermo qualche col tasto in basso proviamo secondo me dovrebbe andare provo a farlo io ok in basso il tasto verde condividi schermo ti apri una finestra di dialogo e gli devi indicare il perfetto ok le vediamo adesso apriamo un attimo qui sì guarda se le lancia tutto schermo così le vediamo ok ok perfetto ti lascio la parola ti lascio la parola ok allora intanto grazie grazie Gianfranco di questa sempre bellissimi affondi che ci fa io intanto ringrazio e saluto tutti proverò diciamo a raccontare questo progetto trasformazioni che come hai già accennato tu questo progetto che fa parte del più ampio progetto pilota che abbiamo realizzato nell'ambito dell'open gov insieme e alla collaborazione preziosissima di form e nelle persone in primis di Angela Nass Andrea Gelao e tua stessa che ci avete accompagnato in questo lungo percorso non intendo raccontarvelo tutto anche perché oltre a essere così articolato e complesso come hai segnalato tu all'inizio di questo webinar poi la documentazione è disponibile e si trova sui diversi canali sia di Formez che nostro ma mi piace insomma vorrei così cogliere questa occasione per condividere alcuni insieme alcuni affondi su alcuni aspetti e il primo che così osservo è questo le esperienze che tu ci hai raccontato e in grande parte e in particolare quella che raccontiamo noi oggi affondano nella cultura della partecipazione alle politiche pubbliche penso che questo non sia un caso per chi si occupa di come dire e frequenta questo mondo della cultura della partecipazione alle politiche pubbliche da tempo ne comprenderà bene le ragioni in quanto tutto ciò tutti quelli che sono i principali principi metodi dell'accountability sono pratiche che nell'ambito della partecipazione pubblica sono da sempre praticate non via partecipazione pubblica senza trasparenza senza coinvolgimento senza comunicazione senza accompagnamento ai processi di partecipazione pubblica con una pluralità di strumenti di tipo comunicativo e soprattutto non via partecipazione pubblica senza un render conto delle scelte in maniera estremamente trasparente estremamente anche fruibile da parte di tutti i soggetti che hanno accompagnato sono stati coinvolti in quei processi quindi forse sono mondi che da tempo sin dalle loro origini hanno sperimentato in un qualche modo questi principi che oggi in maniera molto più ampia così rappresentiamo nel mondo dell'accountability e questo sia importante dircelo importante anche riconoscerlo in fondo queste pratiche partecipative hanno concorso a creare una cultura all'interno della anche pubblica amministrazione questo mi fa piacere insomma ricordarlo giusto una parola prima hai parlato di iperbole l'esperienza bolognese sicuramente ormai un'esperienza pioniera a livello nazionale nasce veramente decenni fa perché penso che se non sbaglio insomma già a metà degli anni ottanta aveva già iniziato a ragionare di reti di dati aperti e mi piace solo ricordare che nacque e fu diciamo vide iperbole la sua luce sui primi sviluppi e anche diciamo il suo sviluppo poi negli anni successivi da un gruppo di donne questo forse non viene mai ricordato però di questi tempi ecco è bello dirci anche questo rispetto invece a prima di entrare nel merito del progetto di cui parliamo oggi rispetto alla trasparenza della diffusione delle informazioni un po' nella logica del governo aperto voglio segnalare che la regione Emilia Romagna che ha questa legge sulla partecipazione oggi la legge 15 del 2018 ma la prima legge sulla partecipazione pubblica è una legge del 2010 ha attivato un osservatorio regionale che è online disponibile ovviamente a tutti nella quale è possibile trovare tutte le informazioni riferite ai processi partecipativi sin dal 2012 quindi è come dire una banca dati estremamente ricca e ampia su processi partecipativi su tutto il territorio regionale nella quale diciamo una delle ultime implementazioni di questo osservatorio è quella delle statistiche che fai da te quindi chiunque può proprio nella logica del governo aperto e dei dati aperti può crearsi attraverso una serie di filtri incluse le risorse economiche messe a disposizione per i vari processi nei vari anni da parte del governo regionale a favore dei processi di partecipazione anche questo credo che sia un elemento molto importante che ci porta dentro a quello che è un contesto dell'Emilia Romagna che su questi temi della partecipazione e proprio della oggi diremmo appunto accountability del rendere conto del rendere visibili comunicare tutta una serie di informazioni ha sicuramente una lunga una lunga storia per tornare invece a entrare più nel merito di questo percorso il progetto diciamo pilota aveva diciamo una serie di azioni lungo le tre azioni proposte dal progetto OpenGov e se da un lato una tra tutte diciamo così in via la prima era quella di sperimentare passare da un portale sul portale regionale e passare alla piattaforma Decidima la prima sperimentazione di attivazione di questo strumento di questa piattaforma per regione Emilia Romagna attivare tutta una serie di attività formative coinvolgendo le strutture regionali ma poi anche sperimentare ciò che si andava via via apprendendo immaginando e attivando un coinvolgimento ampio all'interno dell'organizzazione regionale sicuramente il nostro diciamo gruppo dell'area del team partecipazione ma anche altri settori che hanno accompagnato e seguito questo percorso in maniera costante in particolare la peculiarità del processo che vi presentiamo oggi è proprio quella di aver voluto sperimentare insieme a la nostra comunità di pratica regionale poi la vedremo ciò che stavamo apprendendo con una finalità concreta che era quella che è stata quella di realizzare insieme coprogettare e attuare un nuovo strumento regionale esattamente legato alla formazione ovvero il programma formativo triennale per la partecipazione e questa è stata diciamo una una sfida importante che ha diciamo per la quale vediamo un attimo qui si è sviluppato questo percorso che è tuttora in corso nella sua fase più diciamo di follow up e di attuazione ma come vediamo questi sono diciamo alcuni macro passi abbiamo detto abbiamo installato abbiamo iniziato a installare la piattaforma Decidim che noi abbiamo chiamato partecipazioni abbiamo iniziato a implementarne gli strumenti creando dei kit messi a disposizione non soltanto della nostra struttura ma di tutte le strutture regionali e poi messi a disposizione di tutta la comunità invece anche più nazionale che utilizza questo tipo di piattaforma un ciclo di seminari e un'attività poi di formazione mirata questo questo percorso diciamo si portava dietro diciamo cercava di ha cercato di raggiungere alcune sfide sfide importanti la regione Emilia Romagna ma sempre fatto negli anni diverse attività di formazione per promuovere la cultura della partecipazione per condividere conoscenze competenze diciamo a livello regionale a livello di enti locali a livello di operatori della società civile con programmi che avevano una cadenza più temporanea una cadenza di solito annuale e in questo caso abbiamo invece orientato la nostra azione a costruire uno strumento di programmazione triennale come gli altri strumenti regionali cercando di quindi costruirlo attraverso un processo di partecipazione che andasse a sperimentare in primis la piattaforma insieme ad altri strumenti di comunicazione accompagnando ovviamente questo processo da una pluralità di strumenti di comunicazione questo è un po' il il quadro diciamo così il percorso che l'anno scorso ci ha visto impegnati dove vedete come le attività di chiamiamole così informazione comunicazione quindi webinar online webinar di approfondimento si sono che hanno aperto questo processo si sono intrecciati ad attività di coprogettazione di workshop fino a consultazioni e a elaborazioni di testi partecipati sulla piattaforma accompagnati sempre da da un portale di informazione regionale che ha cercato di mantenere una comunicazione costante con la nostra comunità di pratiche piuttosto che con i nostri operatori da canali social piuttosto che anche forme di comunicazione di supporto quasi one to one quindi da una comunicazione più ampia e generale rivolta a un pubblico indifferenziato fino a sportelli invece di supporto e di accompagnamento attivati quasi su richiesta diretta in questo percorso diciamo la piattaforma partecipazioni nella quale si era aperta diciamo una stanza mirata per questo processo trasformazioni è stato il luogo principe nel quale sono state sempre presentate e messe diciamo a pubblicate tutti gli esiti di ciascuno di questi passi di questo di questo processo quindi report intermedi documenti elaborati tutto diciamo la fase di anche commenti e proposte elaborate direttamente sulla piattaforma quindi un processo sviluppato in piena trasparenza fino ad arrivare a definire le proposte diciamo formative di corsi di formazione di attività formative da poter realizzare nel triennio che sono state messe a votazione attraverso così una sorta di bilancio partecipativo realizzato lo dico con le diciamo risorse reali ovvero abbiamo a bilancio avevamo un centomila euro per la formazione che sono state la cui destinazione è stata diciamo decisa attraverso la piattaforma Decidim che ha sulla quale si sono diciamo votate e definite tutte le priorità formative che sono poi andate a concorrere nel piano formativo triennale tutto questo è stato diciamo quindi accompagnato da questa diciamo continuo dialogo e messa a disposizione di informazioni e di attività di partecipazione di comunicazione in una logica di continua di circolarità diciamo di contenuti e vado vado più più veloce per diciamo toccare alcuni per darvi alcuni ultimi passaggi e se questo percorso diciamo ha portato a elaborare il in questa maniera così partecipativa accompagnata da questo processo di comunicazione attraverso vari strumenti il piano triennale per la formazione un passaggio importante rispetto al tema dell'accountability è stato quello di nell'autunno dell'anno scorso organizzare questo primo infoday che è stato un momento diciamo nel quale questo processo ha avuto un significativo momento di grande visibilità in termini di restituzione di tutti gli esiti di questo percorso in termini di proposta in termini di partecipazione in termini di scelte in termini di anche presentazione del piano triennale e presentazione anche della modalità con la quale si è addivenuti alla scelta del fornitore ovvero attraverso una manifestazione pubblica una manifestazione di interesse con una aggiudicazione pubblica della fornitura delle attività del piano è diventato quindi questo infoday un momento sia di condivisione delle scelte di condivisione di presentazione degli esiti di un percorso presentazione delle attività formative annuali ma anche un momento che ha valorizzato la comunità di pratica regionale ovvero tutte le persone le realtà che hanno partecipato a questo percorso ma non solo modalità diciamo così che è stata ripetuta anche nell'anno successivo cioè nel 2023 perché è importante perché lo sottolino questo passaggio perché diciamo ci sembra un modo intelligente di utilizzare dei momenti di comunicazione pubblica benché in questo caso organizzati online per raggiungere una pluralità di obiettivi di tipo di comunicazione e condivisione di scelte e di politiche sempre nella logica sempre di accountability nell'autunno del 2022 sono partiti fin da subito i primi corsi formativi e il mese successivo è stata avviata una prima indagine qualitativa di questi corsi quindi sempre come strumento ancora una volta che attiva quella comunicazione circolare tra la pubblica amministrazione e in questo caso le persone alle quali quelle politiche formative verso le quali sono state attivate gli esiti sono stati indagati diversi aspetti ma i risultati della questa prima e rapidissima consultazione sono stati subito utilizzati per impostare e anche aggiornare la proposta formativa della seconda annualità quindi quella del 2023 come vi dicevo in questo diciamo percorso sempre che utilizza uno step verso l'altro nell'infoday 2023 che è stato promosso a conclusione della consultazione sono stati nuovamente condivisi degli esiti della consultazione comunicate le scelte via via nella circolarità promossa la nuova attività della nuova annualità ovviamente i social network la produzione di piccoli video news sul nostro portale newsletter mail mailing list sono tutti strumenti che hanno accompagnato questo percorso in maniera in maniera costante oggi stiamo portando avanti questo percorso con queste ultime attività e ci stiamo proprio concentrando su prevalentemente su come ancora migliorare la nostra azione di accountability di questo percorso e voglio però come dire salutarvi con rilancio per dirvi che da questo percorso e da questo lavoro abbiamo proseguito nel coinvolgere la nostra comunità di pratiche partecipative regionali attivando dei nuovi spazi dentro la piattaforma partecipazioni andando quindi a sperimentare dei nuovi canali delle nuovi strumenti di dialogo e di interazione che cercano di come dire declinare in maniera sempre più puntuale e sempre più aperta questo confronto e questo dialogo sulle politiche pubbliche su come le costruiamo su come cosa ne facciamo e come le stiamo realizzando attivando degli spazi di collaborazione digitale sulla piattaforma dedicati alle nostre comunità di pratiche e che vi diciamo vi vi lasciano con questo video e che vi invito a venire a vedere direttamente sulla piattaforma grazie grazie mille grazie 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 per questo intervento grazie per tutto quello che la regione emilia romagna ha fatto negli ultimi due anni insieme a noi ma più in generale su qualunque attività che ci ha raccontato grazie non solo a te ma ne approfitto anche per ringraziare Piera Magnatti e Silvia Martini che sono state relatrici nei precedenti due appuntamenti di questi webinar come vi dicevo la logica è stata quella di raccontarvi la prima parte dei temi però senza lasciarli così sospesi o un po' astratti dare la prospettiva della regione medioranea anche per avere concretezza rispetto alle cose che evidentemente si possono fare grazie al conto di Michela e delle sue colleghe nei due webinar precedenti abbiamo visto come una regione come un'interregionale possa partendo da questi principi partendo da questi strumenti partendo da queste premesse portare avanti delle politiche pubbliche molto parenti da questo punto di vista grazie a tutti grazie a tutti i relatori grazie a Angela grazie a Irena grazie al nostro staff che ci ha supportato e ha reso possibile tutto questo questi primi tre webinar magari ce ne saranno altri sulle stesse tematiche grazie di cuore a tutti voi che avete deciso di trascorrere con noi un'oretta e mezza per ogni settimana le ultime tre settimane quindi davvero grazie al vostro tempo grazie alla vostra attenzione ci lasciamo così vi abbiamo dato tutti i riferimenti utili in chat nella chat trovate tutti i riferimenti per andare a guardare gli spunti che vi ha dato Michela un attimo fa per tutto riguardo quel passaggio che abbiamo fatto insieme sui corsi online attivati nell'ambito del progetto OpenGov metodi e strumenti il link che vi ho dato in chat li raccoglio tutti quindi se vi va di approfondire potete certamente ripartire di lì per qualunque cosa ci possiamo sentire sui riferimenti che trovate sulla pagina di 20PA e comunque di qui a un po' vi dovrebbe arrivare la mail di cui vi parlavo prima per la conclusione di questo ciclo Michela ancora una volta grazie a te grazie a tutti grazie a tutti di averci raggiunto e vi auguro una buona giornata a presto ciao